E' il mio nome di servizio. E' il mio nome di servizio. E' il mio nome di servizio. Quanto te ne sono rimasti? Ce n'avevo una e nell'ultimo viaggio ne ho preso altre due. Stai attenta. Sto attenta. Si chiama Grimaldi e l'ingegnere sta qua a Roma. Sono le sue mani. E' la prima volta che muoiono. C'era molto doloroso. No, nel modo più assoluto. Lei mi ha mentito. Lei non mi ha chiesto niente. Ieri sono venuti i carabinieri. Hanno chiesto di lei. A volte non si capisce. Non possiamo sempre sapere qual è il limite del nostro intervento. Non c'è una regola. Non c'è una regola. Io ce l'ho una regola. Io credo in quello che faccio. Non mi ha chiesto non si capisce. E Correre.